La solitudine. Giulia Quintavalle, abbandonati i temi Ilari, vado su quelli più intimistici. Domani lei vive la terza Olimpiade, da outsider diciamo, comunque essendo Quintavalle ci sono attese. Prega, legge un libro, si rilassa in che modo, riesce a dormire, riusciva a dormire, dopo l'Oro Olimpico riusciva a dormire, il primo pensiero è per la mamma, per il papà, per la famiglia, qualcosa di folle. Non so, in quel momento, in quei giorni dice, beh, insomma, adesso mi arrivano 100.000 euro, compro una gran macchina, oppure vado alle Seychelles, oppure compro un isolotto, oppure io se avessi soldi da buttare penso che mi comprerei la visibilità, vivo per quello. Vorrei fare, comprerei una trasmissione su Rai 1, ad esempio. Cosa farebbe, Giulia? Mettiamola così, oggi le regalo un milione di euro, cosa farebbe? Magari gli dai in beneficenza. Beh, un milione di euro cosa farei? Allora, intanto comprirei una tenuta, visto che siamo in Toscana, una bella tenuta. Con i cavalli, no? Con tanti animali, perché è il sogno del mio bambino fare il fattore, essere circondato da animali, dove ci andrei a abitare con tutta la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli, e poi sì, farei anche in beneficenza. Ecco, Giulia, il discorso dell'intimismo, no? Lei pregava prima e dopo le gare, anche il ringraziamento. Intanto è religioso, no? Sì. Pregava prima e dopo, era un rilassamento, era un ringraziamento? Ho sempre pregato, a mio modo, non sono una di quelle fissate che va sempre in chiesa, anche se a volte mi piacerebbe dedicargli più tempo, però ho sempre pregato. Il giorno dopo loro ha ringraziato qualcuno di lassù? Ho ringraziato, sì, perché avevo un nonno che era molto sportivo e lui mi è dispiaciuto che non avesse partecipato alla mia vittoria, tutto qua. E penso che lui dall'assù mi abbia visto, ma anche in finale con la Gravest, in pochi secondi prima della finale, mi sono fatta il segno della croce perché sapevo di aver vinto. Ecco, un atleta, quando non c'è, mi aiuti in questo, durante la competizione, no? Il punteggio è immediato, cioè non c'è come nel pugilato, allora nel pugilato lei sa... No, è immediato perché c'è un tabellone che viene aggiornato e lo vedi con il cronometro, quindi vedi il tempo che manca e il punteggio aggiornato. Sono degli zero a zero che non c'è proprio nulla nei cinque minuti o sono rari? No, ci sono, però vai avanti perché per vincere devi fare il punteggio oppure vengono segnate anche le sanzioni se non attacchi o se sbagli qualcosa. Giulia, qual è il suo judo dei sogni sul piano temporale? Cioè, io le parlo del calcio che è più facile, no? Non c'è il tempo effettivo, ci sono due tempi da 45 e l'intervallo di 15. Così ha deciso qualcuno, non so quando. E nel judo abbiamo detto 5 o 4 minuti. Sì, poi cambiano per renderlo più visibile, nel senso per renderlo più mediatico. Bene. Ma perché 4 minuti e non 40? Come sarebbe un incontro fiume di 40 minuti? Non sarebbe realistico perché... La concentrazione per tanti minuti è dura, eh? Concentrazione, la resistenza, la forza, perché alla fine sono 4 minuti intensi dove te stai sempre a contatto con l'avversario. E quindi il corpo lavora. Non è come il calcio che dai una pedata al pallone, poi prima che arrivi dall'altra parte ti fai una passeggiata, uno scatto, un allungo. Da noi è sempre scatto perenne, quindi 40 minuti sono possibili. A lei piacerebbero di più... Lei sarebbe stata più competitiva in un tempo più lungo o più limitato? Cioè, più diminuisce il tempo, più lei vince o più diminuisce più lei perde? Beh, diciamo che... Puoi allenare tutte e due le cose. Nel senso che puoi allenare a vincere subito e puoi allenarti nel tempo. Quindi devi essere bravo a realizzare il punteggio un breve tempo se stai perdendo, quindi mancano pochi secondi alla fine, devi dare il massimo in quel poco tempo. Oppure se stai vincendo, ci sono ancora altri 4 minuti, devi essere bravo a mantenere il punteggio. Quindi devi allenare tutte e due le cose. Perché se non le alleni, poi se non hai perdito il fiato, non reggi 4-5 minuti e quindi poi perdi per questo. Quindi la cosa deve essere allenata. Lei aveva libri in valigia alle Olimpiadi? Sì, per Londra non mi ricordo che libro avevo. Per Pekino avevo un libro di Banana Yoshimoto. Chi è? Una scrittrice che mi aveva passato il libro una mia amica e quindi me lo sono portato dietro, ma mi è rimasto un pressora a Londra, però no. Giulia Quintovalle, siete amiche tra di voi? Mi aiuti perché magari sbaglio sport, ma Odette Giuffrida, Lucia Morico, le due che abbiamo, vabbè, le sue compagnie di stanza. Oggi, no? Cioè, per esempio, Antonietta Di Martino, salto in alto, carissima amica. Sì, siamo molte amiche. Ah, perfetto. Perché siamo dello stesso gruppo sportivo. Che è? Fiamme Gialle. Che è lo stesso di Ilenia Scappini. Sì, è di Lucia Morico. Ecco, infatti stamattina Ilenia mi ha fatto scrivere alla mail delle Fiamme Gialle per l'intervista. E dicevo Giulia, ma, ecco, Antonietta, scusi, io ho chiamato Antonietta per il gazzettino del nord-est, dove scrivo, adesso poco, su Alessia Trost. E allora, non ricordo bene, ma sono rimasto male, perché lei arrivò, secondo vinse il Golden Gala, io l'intervistai per l'unità, il giorno dopo, e fu caduto. Mi ha fatto un discorso che non mi ha convinto, nel senso che sembrava dire, dunque, guarda, Vanni, nulla contro di te. Però, quando io ero, magari, non al top, ho letto delle frasi che non mi hanno convinta. Quindi, scusami, ma non dico nulla. O viceversa, insomma, avevo chiesto a Sara Simeoni su di... Adesso non ricordo bene. Dico, fra voi, no? Sì. Fra voi campionesse di epoche diverse. Gliela giro in questo modo, Giulia. Lei è... Chi è che ha vinto l'oro olimpico nel Giù dal femminile? Lei è basta? Sì. Se io mi fissi a entrare nella vostra testa, ho fatto di recente Manuela Pierantozzi, farò i legni, più o meno anche i maschi, eccetera. Tra di voi, lei vuole essere l'unica italiana oro olimpico nel Giudo nella storia? Cioè, se Odette fa magari due ori olimpici, Odette Giuffrida, c'è un pizzico di invidia? Nel senso che lei vuole essere l'unico simbolo, lei piuttosto che Lucia, piuttosto che... Piuttosto che Rosalba, piuttosto che Fabio Basile, si vuole essere immortali, nel senso io sono l'unica. Beh, diciamo che io non sono così, nel senso che ci sono le persone che vorrebbero essere uniche. Io sarei contenta per lei se lei vincesse un oro, la Odette Giuffrida. Stiamo parlando di lei perché è quella che ha le carte per farlo. Già io sono contenta perché ho vinto e sono stata la prima, quindi già sono scritta nella storia. Quindi se qualcuno poi lo fa dopo di me, ben venga. Vuol dire che insomma il nostro movimento e quello che facciamo è in crescita. Giulia Quintavalle, immagini che oggi io possa parlare con il Presidente, anzi farò anche Domenico Falcone. E gli dico, senta Presidente, facciamo un gioco, fa allenare di qui all'Olimpiade Odette Giuffrida da Giulia Quintavalle. Giulia, è chiaro che parliamo di lei, ma in sincerità, lei saprebbe fare meglio o peggio? Chi è l'allenatore di Odette? Un uomo? Lo sa? Chi è? Non so quello che aveva prima, ma al momento non so se lei ci... Domani Giulia prende in mano da sola, da sola, la preparazione di Odette all'Olimpiade. A lo sa fare, B come potrebbe andare Giulia, secondo lei? Beh, io lo sapevo fare. Perché è un po' i ragazzini, i ragazzini, lei fa anche da mamma, fa da educatrice, no? I ragazzini sono un conto. Un conto è, tra l'altro Giulia, essendo lei Oro Olimpico, le aspettative sarebbero tante da lei perché funziona così. Lei è stata grande da atleta, adesso vediamo come allenatore e giocatore, no? Giocatore allenatore. Conte è stato un ottimo giocatore e da allenatore è bravissimo. Ancelotti uguale, annetto degli infortuni. Giulia, lei... Ma loro, dopo chi hanno smesso di fare l'atleta? Hanno fatto subito l'allenatore? Beh, Ancelotti ha smesso a 32 anni, l'ha chiamato Sacchi come vice, poi è venuto a Reggio Emilia, poi è diventato Ancelotti. Conte, inizio si è dimesso, insomma ha avuto qualche... però era bravo questa grande grinta. Lei domani, dal nulla, porterebbe Odette all'oro o all'uscita, al primo turno? No, vabbè, questo all'uscita no, perché lei è bella determinata. Potrei dargli sicuramente tanto, anche perché mi allenerei con lei e penso che quello che può dare un atleta appena smette a un atleta giovane sia una cosa unica. Anche perché io sono stata un grande atleta e quindi mi sono allenata anche tante volte con lei e lei sa che posso dare un grande aiuto. Sì, perché quando combatti è normale che ogni atleta è diverso e quindi ogni atleta ha le sue qualità e i suoi difetti, quindi quando ti vai a confronto per lei può essere solo un qualcosa in più tutto quello che io gli trasmetto e quindi potrei sicuramente aiutarla. È normale che poi però fra un atleta e l'allenatore ci deve essere un feeling e posso dirti che Odette è una grande atleta, però al momento io non gli potrei dare quello che le vuole perché ho due bambini. Invece lei da un allenatore richiede tanto e è giusto perché magari vuole un allenatore che sia lì con lei 24 ore su 24 e io al momento non potrei. Giulia, invece quanto incide l'allenatore? Intanto prendiamo la sua carriera. L'Olimpiade è vinta. Lei l'ha preparata da sola con un allenatore, poi c'era il preparatore atletico, il fisioterapista. L'osteopata, come avveniva il lavoro settimanale diciamo? Lei era da sola con l'allenatore in palestra? No, eravamo tutti insieme perché anche sono sport individuale e ci si allena con tutta la squadra, quindi tutti gli atleti di tutte le altre categorie. Ce n'è uno e poi c'è l'osteopata? No, ci sono più tecnici, all'epoca ne erano tre, poi di cui uno faceva anche il direttore tecnico che era Marianne. E poi c'era il preparatore atletico e poi vabbè più fisioterapisti, nutrizionista, osteopata, no. Poi fisioterapista, la borsa, l'atleta se la fa da solo o c'ha il segretario? No, facciamo tutto da noi. Ci laviamo, ci facciamo tutto da noi. Nel senso lavatrici, preparare le cose, valigie, facciamo tutto da noi. Giulia, il ritorno lì, il giorno prima, intanto mi scusi, l'oro olimpico l'ha vinto tutto lo stesso giorno? Sì, tutto lo stesso giorno. Perfetto. La notte prima, no? Si è addormentata facilmente? Ha dovuto fare il training autogeno? No, non ho dormito un granché perché la mattina presto avevo il peso e quindi... Sveglia che è un olimpico? Va, là mi sarò svegliata verso le sei e mezza e alle sette sarò andata al peso, però eravamo avanti, nel senso a Pechino l'orario era qualche ora in avanti. La notte dopo ha dormito? Non ho dormito né la notte prima né la notte dopo. La notte prima perché facevo il peso e quindi non mangiando e non bevendo all'epoca, all'ultimo giorno... E la notte dopo per l'adrenalina? Per l'adrenalina, sì. Senta, ma la mamma cosa le ha detto quella notte? A caldo, la prima telefonata, il primo messaggio? No, all'inizio non riuscivo a prendere neanche la linea perché aveva la linea intasata la mia mamma. Comunque, niente, mi ha detto che sono stata bravissima. C'è un errore che non commetterebbe Giulia nella gestione del successo? Non si farebbe violenza sull'essere schiva, eh? Non è pentita di nulla. Non vorrei... Ad esempio, ma io anche adesso tengo Sky, adesso ho tolto il volume, ma tengo sempre Sky 4, no? No, non c'è una cosa... Ad esempio, Miss Italia come ospite... No, scusi, Sanremo, no? Sanremo non l'ha chiamata l'anno dopo? Se non l'ha chiamata Giulia è perché non è un personaggio, lei lo sa. Perché se lei di professione avesse fatto l'oca da reality, l'avrebbero chiamata. Ma subito dopo la mia vittoria sono andata a Miss Italia, Carlo Conti mi chiamò, proprio perché c'è, penso, questa amicizia anche con Carlo Conti da Toscano e quindi... Con chi? Con Mirigliani, no? No, Carlo Conti. Sì, ma chi è che la mandò? Ah, penso che lui insistette per chiamarmi, penso. Come andò? Le piacque? Sì, un sacco. Ma c'è anche su YouTube. Dico, ma alla voce invece sogni, sogni nel cassetto, follie, oppure... Gliela cambio così? Quante volte si è ubriacata in vita sua? Non saprei, vabbè, da ragazzina in compagnia, ma così nel senso... Non... cose nel senso tranquille. Invece Giulia, sempre tema sensibile, lo facciamo finta che il suo marito, è marito, no? Non compagno, è marito. Marito. Un'atleta, io la cambio in questo modo, un'atleta non sogna... Ecco, lei potesse, no? La bacchetta magica. Non si fidanza con Cristiano Ronaldo al posto di Giorgi? Non sostituirebbe il suo marito con Cristiano Ronaldo? No. In tutti i sensi, dico, da una parte... La lascio alla famiglia, Giulia. Dico, non è... Con la bacchetta magica non interessa quel discorso, né della notorietà, né dell'uomo. No, ma l'unica cosa che cambierei, penso, l'anno della vittoria, quindi non dovrei lottare per la notorietà. Magari se avessi vinto... cioè, se invece di vincere nel 2008, avessi vinto oggi, sarebbe una cosa scontata. Certo, certo. Invece... Per andare alla ricerca. Chiudiamo con questo, Giulia. Cosa farà nella sua prossima vita? Lei ne ha 39, no? Noi ci risentiamo quando ne ha 70. 38, facciamo. 38, scusi, no, mi scusi, mi scusi. Allora, 38. Noi ci risentiamo per un'altra ora a 76. Cosa mi racconterà? Cosa farà nei prossimi 38 anni, Giulia? Allora, la mamma, magari la donna, magari l'allenatrice e la parola. Vabbè, spero di continuare il mio percorso da allenatrice e magari di portare qualche mio atleta alle Olimpiadi. Allena uomini o donne o tutte e due? Tutte e due. Ma è più brava da atleta o da allenatrice, Giulia? Beh, da atleta lo so perché ho ottenuto il risultato. Da allenatrice è da poco che ho iniziato, quindi devo raggiungere ancora il mio obiettivo, questo. Chiudo con questo, Giulia. Mi dici i tre più grandi suoi amici del suo mondo e i tre più grandi amici, se non amici quelli con cui faccio grande feeling. Io penso che io sono antipatico. La tanta sensazione, la visibilità, l'ansia, la voglia di, no? Tre con cui ha un feeling proprio, non so, dopo gli mando un messaggio e dice guarda dai un'occhiata a questo qua, abbiamo fatto un'ora e mezzo con questo qua, è un po' strano, però insomma c'è la mia storia. Uno e tre persone invece che ha cancellato il numero dal telefonino. Ma lei mi chiede tre miei colleghi nel senso? Sì, anche doppia, Giulia. Ho tre persone amiche sue extra, non so, la parrucchiera, la compagna di classe, uno. Cioè, vorrei i tre più grandi amici suoi o amiche all'interno del suo mondo e le tre persone grandi, magari note, con cui non ha feeling, di cui non ha il whatsapp, non ha memorizzato il numero. E anche nella vita, che so, c'è la compagna di classe, la parrucchiera e la vicina di casa. Oppure ci sono, c'è un tifoso che l'ha insultata, c'è uno che l'ha presa in giro al supermercato e c'è uno che le ha scritto sui social una brutta frase. Intendo il massimo e il minimo, e nella vita e nel suo mondo. Magari, se nel suo mondo non mi vuole rispondere, magari mi fa capire come si può spezzare un legame, come mi fa intendere, magari, perché non ha feeling con qualcuno? A parte che mi sembra difficile non andare d'accordo con Giulia Quintavalle, occhio, eh. No, infatti, no, nella vita ci sono sicuramente delle persone a cui sono molto legata e anche, diciamo, lo sport mi ci ha legato e fanno parte del mondo. Il mondo del judo è sicuramente la mia migliore amica, dove io ho dedicato il gesto quando ho vinto e che anche lei è fiamme gialle come me, ex fiamme gialle. Chi è? Antonia Cuomo, oppure c'è Lucia Morico, dove sono legata, lei sempre nel judo, fiamme gialle, ha fatto terza a Atene, nel judo, e dove ci ho legato anche perché abbiamo trascorso e abbiamo vissuto l'esperienza di Pechino insieme. E poi ci sono altre ragazze, come può essere una Valentina Moscat, sempre nel judo, oppure una Edivisio Gwende, quelle che sono più legate. C'è qualcuno con cui aveva un grande feeling ma si è spezzato? Ha cancellato il numero proprio, ha bloccato il contatto su Whatsapp? Ma a me non è mai capitato di cancellare il numero, è normale che crescendo capisci tante cose e ci possono essere degli screzzi. Magari per un periodo non ci parli con certe persone e porti rancore, però poi col tempo capisci che magari era… insomma si possono, non ti dico perdonare, però passarci anche sopra. Quintavalle, lei ha avuto in carriera un unico tecnico da bambina fino all'ultimo giorno o no? Da bambina fino a quando non sono entrata nella guardia di finanza, sì. Chi era? Cantini Renato. Evi bene? Sì. Era bravo? Sì, molto, perché oltre a me in un paese così piccolino ci sono stati anche altri due campioni che sono entrati sempre nelle fiamme gianne. Chi sono? Uno è Andrea Falso e un altro è Michele Monti che purtroppo non c'è più. E poi invece chi ha avuto? E lui ha fatto anche l'Olimpiadi. Chi ha avuto tecnici dopo? Dopo ho avuto un Giorgio Vismara, un Felice Mariani, un Dario Romano. Ma tanti quindi, quindi ne ha avuti quattro in vita sua? Sì. Poi nel percorso c'è sempre chi ti ha dato anche il suo, diciamo, supporto anche tecnico. È meglio uno per tutta la carriera o è meglio cambiare? Ad esempio Federica Pellegrini ne ha cambiati tanti, alcuni non per scelta, perché se fosse in vita credo la seguirebbe ancora Castagnetti. Ma io penso che ci debba essere un bel rapporto con l'allenatore e forse io avrei anche scelto di averne anche meno. Però a volte ci sono delle situazioni in cui ti portano o a cambiare o a scegliere. A volte non è per scelta tua ma per scelte di altri. Giulia invece... Io mi affido comunque, nel senso quando c'è un allenatore sono una che si affida e nel bene o nel male, insomma, mi lego. Un atleta del suo livello, anzi prendiamo Odette e Giuffrida. Oggi Odette sarebbe in grado di prepararsi da sola alle Olimpiade. Io sto a Reggio Emilia e qui si chiama Andrea Giaconi, un ostacolista, ostacoli alti, quindi 110 ostacoli. Il finale di carriera ha fatto da solo. Riannodiamo Giulia. Non penso. Lei ha 18 anni, no? Lei tutta la carriera da sola, da sola da sola. Non penso che nel judo no. Avrebbe vinto l'Olimpiade uguale, più facilmente, no? No, no, no. Sicura? Sicura. Sicura. Perché c'è bisogno del supporto ma non solo morale. Ma serve anche quello tecnico e quindi penso che a 18 anni non c'hai la capacità e l'esperienza per gestire e per migliorarti da quel punto di vista. Chiudiamo con questo, Giulia Quintavalle. Spiega agli italiani perché devono praticare se non judo, karate, eccetera, eccetera, e non guardare la televisione come faccio io e basta, e non specchiarsi nella bellezza come fanno in tanti, e non provare a diventare famosi e a guadagnare tanto con il calcio. Il messaggio è e per i giovani e anche per i genitori. A Reggio Emilia c'è un barista che ha quattro figli, tre sono gemelli, io ho scritto la loro storia per molti quotidiani. Gli è arrivato al bar, lui fa il barista, io vado a leggere i giornali di notte, non adesso. Gli è arrivato Canale 5 ed era euforico, con mia moglie rientriamo dalla vacanza, euforico. Lui è un bar frequentato dalle forze dell'ordine, immagini la percezione, un barista calabrese a Reggio Emilia finisce su Canale 5, sono stati momenti per lui entusiasmanti. E sa cosa mi ha detto? Continuava a ripetere, senti ma secondo te arriveranno anche dei soldi, erano tre ragazzi, tre gemelli che giocavano a calcio, si sono persi completamente, erano solo tre gemelli. E lui pensava ai soldi in quei giorni, capisce? Diceva, secondo te riescono a sfondare, secondo te da tutti questi servizi arriveranno, non in quell'istante, ma riusciranno a fare i soldi col pallone? No. E lo dice agli italiani perché non si vive di solo calcio, di solo di Juve, Cristiano Ronaldo, Inter e Milan, Ibrahimovic e Lukaku? Beh, io penso che praticare uno sport come il mio, uno sport, un'arte marziale sia bello e possa arricchire la persona. L'arricchisce non solo fisicamente perché ti dà la possibilità di stare bene col corpo, quindi al benessere, ma anche a livello estetico, ma ti insegna una disciplina, alle donne insegna l'autodifesa, quindi a potersi difendere, ti insegna a rispettare le persone perché è uno sport che pratichi in gruppo, anche se uno sport è individuale, e ti dà tanto a livello mentale perché ti insegna come socializzare con le persone, a come approcciarsi, a come rilassarsi, a avere pazienza, a essere umili. Penso che sia uno sport molto completo. Ecco perché io lo invito la gente ad avvicinarsi a questo sport. È normale che non si può vivere solo di soldi, è uno sport come il nostro, è uno sport che non dà tantissima notorietà, magari oggi le dà più di un tempo, però è anche vero che i soldi non danno la felicità, possono aiutare, ma non danno la felicità. Penso che è meglio essere felici e umili piuttosto che magari, come dirti, infelici e ricchi. Non voglio magari che qualcuno pensi a male, però penso che ognuno possa trovare la ricchezza in tutto quello che fa, nella quotidianità anche. Giulia Quintavalle, tutto questo, temo, non andrà oltre il mio tu, ma ho una speranza e mi è venuto in mente, non l'ho mai chiesto bene così. Il mitù c'è nel judo? Nella vita di Quintavalle, nella vita magari non diciamo il nome di altri, il mitù sa cosa intendo? Ad esempio c'è stata un'indagine nel ciclismo, il CT del femminile Dino Salvoldi è stato indagato dall'interno, non dalla polizia, ma dalla federazione, è uscito pulito. C'era una ragazza che accusava, diceva, entrano i massaggiatori, diceva, insomma, c'è una ragazza che ha proprio denunciato e sui media, e credo anche in altro modo, la scarsa professionalità. Cioè, il massaggiatore entra e ti fa i complimenti perché sei bella, poi ti dice certe parole, e il CT dice lascia la porta a pelle, adesso non ricordo bene. Comunque tutto questo si è risolto in nulla, ma resta un po' il sospetto, è una campagna che ha fatto in particolare Giulia Il Giornale, no? Benni Casadei Lucchi, il capo dello sport, ha scritto, il presidente del CONI Malagò ci ha ringraziato, poi l'inchiesta è stata archiviata e lui ha scritto, un editoriale ha scritto, vorremmo sapere cosa ne pensa il presidente Malagò. Nella traiettoria umana e professionale Giulia c'è mai stata la molestia, uno, la molestia verbale, il sessismo, e se ha, non diciamo la persona, insomma, nel Judo ha percezione di un qualcosa di stonato, che può essere un ammiccamento, che può essere, insomma, non voglio neanche dire, usare certe parole, è una società pulita quella del Judo, occhio, ovunque. Sì, sì, è una società pulita, non ho mai sentito parlare di questo e penso che, cioè non ho mai sentito parlare, a volte secondo me queste cose succedono perché si dà adito a questo. Sono convinto anch'io, sono... Ci deve essere la volontà, voglio dire, se una persona è seria, non vede malizia. Da parte di due componenti, insomma, è dell'atleta e dell'allenatore, si è sempre in due, si è sempre in due. Va bene, allora ci risentiamo fra 38 anni. Poi mi prenoto, perché poi sono piccoli, ma quando compiono 18 anni mi prenoto per intervistare suo figlio che mi racconta, aperte le virgolette, essere figlio di campionessa olimpica, punto, essere figlio di oro olimpico umile, normale, senza trucco. Va bene. Grazie di cuore. Perfetto, grazie a lei, è stato un piacere. Grazie.